Dottor Bovero sappiamo dei suoi scritti, degli articoli, dei libri ma anche degli interventi televisivi e radiofonici che hanno come oggetto la comunicazione e la sua importanza nel mondo del beauty, del wellness e nel lifestyle. Nella sua veste di presidente del comitato tecnico scientifico dell'associazione Air Beauty Consultant quali elementi della comunicazione ritiene debbano essere oggetto di un approfondito processo di formazione per un Air Beauty Consultant appunto? La comunicazione è fondamentale, la comunicazione è vita, la comunicazione ci distingue dagli altri animali ma soprattutto la comunicazione è l'elemento che oggi può davvero fare la differenza in qualsiasi settore. Credo sia impossibile oggi concentrare le proprie forze soltanto sulla bravura tecnica, sulla abilità professionale. Oggi essere eccellenti significa spingersi sempre un passo oltre le aspettative dei clienti, significa saper intercettare i nuovi bisogni e trasformarli in consulenza, in efficacia, in prodotto, in servizio. Oggi non basta la qualità per assicurare il successo. Sono lontani i tempi in cui era sufficiente essere tecnicamente portati per ottenere il successo. Oggi il professionista di successo è un professionista sicuramente bravo, sicuramente competente, sicuramente tecnico e tecnologicamente avanzato, ma è un professionista che sa comunicare. Esistono due aspetti fondamentali nella comunicazione efficace per il nostro settore. Un aspetto è quello che potremmo definire promozione, ovvero comunicazione finalizzata a promuovere la propria attività, le proprie competenze e quindi finalizzata a mediatizzare la figura del professionista eccellente. Tutto ciò che rientra nel marketing. Un altro aspetto invece molto importante per quel che riguarda il lavoro del consulente di bellezza è quello di saper comunicare con i propri clienti, comunicare con i propri interlocutori, perché è noto che è impossibile pensare ad un progetto di consulenza di immagine o di bellezza che non parta da un sano ascolto del cliente. Ma fare un ascolto significa non soltanto aprire le orecchie e capire ciò che l'interlocutore ci dice. Ascolto significa saper spingersi oltre ancora una volta, saper andare a interpretare, intercettare quei messaggi dell'anima di chi comunica con noi che soltanto un ascolto attivo, soltanto un ascolto empatico può permetterci di farlo. Di conseguenza ecco che la comunicazione intesa come scambio di concetti, di informazioni, comunicazione intesa come capacità di mettere in comune se stessi e di ascoltare ciò che gli altri hanno da mettere in comune, diventa in realtà il primo passo verso un percorso che guiderà il consulente di bellezza verso l'eccellenza. Ritengo quindi che proprio la comunicazione sia un aspetto da valorizzare, un aspetto da implementare, un aspetto da mettere sempre più al servizio di chi dell'immagine e della bellezza ne fa un lavoro.